Benvenuti ragazzi in questo nuovo video io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 perchè andremo ad analizzare e a vedere tutti e dico proprio tutti i veicoli che ci sono su GTA 5 dopo l'ultimo aggiornamento ovvero Doomsday Ace andremo a vedere veicoli che sono già usciti e non veicoli che usciranno a breve, veicoli che sono usciti pochissimo tempo fa e che sono usciti già fin dall'inizio e vediamo quali ci piacciono di più, quali sono già usciti e fatemelo sapere quindi qui sotto nei commenti perchè non sono molto aggiornato ultimamente quindi fatemi sapere quali sono usciti e quali non avete mai visto su GTA 5 online ufficialmente in questo modo almeno mi fate sapere quale di questi veicoli non sono ancora usciti prima di iniziare ragazzi vi ricordo di lasciare un bellissimo like a questo video arriviamo a mille like in questo modo mi supportate questa cosa è molto importante ragazzi e il vostro supporto quindi mi raccomando arriviamo a mille like commentate facendomi sapere che cosa ne pensate di questo video ma dei veicoli in generale quale veicolo vi piace di più tra tutti quelli che vi mostrerò e tranquilli verso la fine vi mostrerò anche il sottomarino una sorpresa enorme davvero molto enorme commentate sotto la mia ultima foto di Instagram hashtag auto in questo modo capirò che siete venuti da questo video seguitemi mi raccomando oltre a lasciare like e commento sotto l'ultima foto e io nel prossimo video vi saluterò bene iniziamo subito dalla prima auto volete la prima persona o no? forse no alcuni vogliono o non la vogliono va bene non è il caso ecco qui siamo con la prima auto che non ha bisogno di presentazioni si chiama l'outarch overflowed outarch davvero un'auto figa vediamo gli interni velocemente anzi vabbè la conosciamo quindi è inutile che vi faccia vedere gli interni però in ogni caso è davvero molto figa quest'auto passiamo avanti con queste auto che sono già uscite che comunque so che sono uscite e comunque sappiamo tutte le conosciamo tutti diciamo che sono abbastanza veloce questa qui se non sbaglio si chiama la SC1 effettivamente è quella davvero molto figa la parte davanti insomma la parte anteriore mi piace davvero tantissimo beh vabbè da dietro sembra tipo una specie di Lamborghini bene andiamo subito avanti su quest'auto che è la Comet Safari si è la Comet Safari vediamo gli interni che gli interni sono davvero molto speciali in quest'auto la parte posteriore di quest'auto è davvero molto molto figa e devo dire che per essere un fuoristrada ha davvero delle prestazioni molto molto elevate però comunque si poteva fare di meglio come fuoristrada però è uno stile molto alla The Crew con i veicoli super o i veicoli sportivi che diventano fuoristrada questa è una cosa figa questa qui invece a differenza di quella precedente a destra è la Comet SR una Comet potenziata insomma una Comet molto più veloce dell'estetica sembra molto simile in effetti lo è molto simile però come potete vedere di serie già questa qui non ha l'allettone come questa qui questa qui è proprio la Comet originale però comunque come potete vedere già i fari di dietro sono molto diversi esteticamente sembra molto uguale perché in realtà lo è ma comunque ci sono varie prese d'aria o varie allettoni o varie differenze che comunque non ci sono su quell'altra o viceversa insomma questa qui questa qui non mi ricordo il nome a dirvi la verità e si chiama l'Ubermatch Revolter ecco qui questa è un'auto molto figa mi pare che è già uscita Giu Jiu Jitsu 5 mi pare che è uscita da poco non saprei dirvi facciamo qualche sgommata e devo dire che c'è un'accelerazione pazzesca questa qui per auto di lusso auto di lusso e di velocità insomma un'auto lussuosa e comoda ci sta come auto devo dire ragazzi non saprei io ora vi faccio il video sui vari veicoli però non vi faccio vedere tutte le modifiche perché se volete tutte le modifiche facciamo così perché siccome devo fare un video a parte in quanto dovrei rientrare in tutte le macchine e modificarle una a una e insomma fare un casino e il video verrebbe troppo lungo facciamo una cosa se volete le modifiche arriviamo a 1500 like a questo video in questo modo vi fate sapere appunto che volete le modifiche quindi mi raccomando ragazzi se volete le modifiche di tutte queste auto e volete vederle arriviamo a 1500 like oltre comunque ad arrivare a 1000 like la soglia prestabilita che noi vogliamo ecco qua questa qui invece la Pfister come si chiama? Neon ecco qua è questa qui ok è davvero molto figa sempre della stessa casa produttrice della Comet è molto bella devo dire non saprei in realtà non so se è uscita già però comunque di accelerazione sembra davvero molto molto veloce molto riattiva di accelerazione davvero molto bella mi raggiunge i 60 migliorari come niente vediamo gli interni un attimino gli interni sono davvero qualcosa di spettacolare c'è questo volante sportivo fighissimo che non è mai stato visto da nessun'altra parte e interni di un colore diverso mamma mia che accelerazione raga bene la parcheggiamo anche seppure a contrario nel frattempo abbiamo chiuso la portella alla macchina di sinistra ok questa qui è la paria che comunque la conosciamo tutti ma comunque merita una piccola presentazione la paria vabbè la conosciamo tutti è l'auto attualmente più veloce di GT5 non si sa per quale motivo per quale bug non si sa in realtà questa qui questa qui fatemi indovinare mi pare che è la Raiden vediamo un po' se ho ragione la Raiden come Raiden e Midna ecco qua Coil Raiden mi pare che è allora Coil forse un'auto elettrica mi pare proprio di sì in realtà non saprei dirvi se invece è un'auto elettrica o no però non vedo marmitte quindi dovrebbe esserlo anche questa qui sembra è davvero molto elegante davvero molto bella forse di velocità non è chissà quale cima però vabbè ragazzi non vi dico i prezzi di queste auto perché non le so neanche io in realtà anche perché delle auto che devono ancora uscire è impossibile saperlo questa qui è la Karin 190Z che mi pare sia uscita è uscita tipo una settimana fa mi pare questa qui è una sportiva classica mentre tutte le altre che abbiamo visto fino ad ora erano tutte sportive normali allora questa qui è una sportiva classica davvero molto molto bella della casa costruttrice Karin come Karin Sultan quindi mi aspetta davvero molta potenza da un'auto del genere guardate gli interni che sono davvero molto carini davvero anni 70 no vabbè anni 70 no anni 80 90 vabbè comunque anni vecchi anni passati che sono davvero fighi questi interni si si fanno vedere che appunto sono di una sportiva classica o di un'auto classica in generale ecco di velocità non è chissà che cosa insomma è sempre una sportiva classica ma non vi aspettate grandi prestazioni da questa qui ok che la sto provando sulla spiaggia però comunque comunque non è dispetto alle altre auto che abbiamo visto due secondi fa abbiamo visto che questa qui ho perlomeno notato che questa qui la 190z non ha un'accelerazione e una velocità chissà quanto elevata anche se ho fatto semplicemente qualche scatto questa qui è l'ocellot ardent però forse mi sono confuso perché questa qui c'era già da tanto tempo quindi sì mi sono confuso decisamente vabbè lasciate stare questo fail che ho fatto vabbè io pensavo fosse l'auto quella lì che andava sott'acqua però effettivamente è molto simile ho fatto un fail della madonna assurdo questa qui è la deluxo e ormai la conosciamo tutti perché chi cacchio è che non sta usando la deluxo in questi giorni su GTA cioè ormai si usa solo la deluxo quasi quasi guardate l'icona il logo di questa casa davvero molto carino come si fa a diventare un'auto volante ed eccola qua mamma mia che figata intanto chiudi di portella che oh oh ok fare i parcheggi con quest'auto forse non è la cosa più facile del mondo piano 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 e usciamo ora no vabbè ciao deluxo fai buon viaggio questa qui è la Grotti GT500 è l'auto che sta uscendo ora su GT5 anzi è già uscita è un'auto sportiva classica e sembrerebbe una piccola Ferrari forse non la so però come la casa produttrice Grotti appunto ha sempre imitato le Ferrari penso sia proprio una Ferrari dell'epoca ok non è neanche questa qui chissà quanto veloce però probabilmente più veloce della Z190 questa qui è l'Albany Rem questa qui è l'Albany 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 Hermes ragazzi finalmente ci sono riuscito molto bello questo colore verde su quest'auto è tipo l'auto di Cass a dire la verità si effettivamente è come quella gli interni wow questi interni fighissimi soprattutto il contachilometri è fighissimo questo contachilometri così si davvero mi piace tantissimo quest'auto si può personalizzare e customizzare da paura ed è uscita tanto tempo fa vabbè non è neanche tanto tempo fa tipo una settimana a Natale mi sa che è uscita quell'auto più o meno si a Natale ed è uscita pure gratis ecco qua questa qui è la Vapid Astler invece questa qui è un'auto sempre sportiva classica che mi sa mi pare proprio di no che non è uscita su GT5 mi sa proprio di no eh però se sbaglio non mangiatemi vivo qui sotto nei commenti fatemi sto favore ok guardate qui che all'interno si vede il motore si intravede mamma mia che potenza questa qui me la modifico solo per spizio ragazzi ok mamma mia ragazzi quanto è figa in realtà sembra tipo una hot knife oppure una Roosevelt ma più che la Roosevelt appunto la hot knife la prima vediamo gli interni gli interni davvero molto molto vecchiotti davvero molto molto vecchi c'è questo motore che ci occupa mezza visuale cioè davvero passiamo invece all'altra auto che è uscita è uscita da poco è un'auto abbastanza buggata che in curva che in curva va più veloce di quando è sul rettilineo ah no una lampadati Viserys scusate si Viserys lo sapevo figa quest'auto ed è una sportiva classica secondo me la sportiva classica forse più veloce di tutto il gioco ok ecco qua queste due auto che ora vi andrò a presentare una questa qui ovvero l'Annis Savestra quest'auto mi piace perché sembrano auto appunto da rally non so non so la forma proprio mi piace davvero tanto quindi io sono più per questo tipo di macchine ragazzi davvero mi piace davvero tanto è abbastanza veloce per quello che può andare è abbastanza veloce qui c'è un castello di sabbia non c'è più mi piace davvero tanto perché se noi la modifichiamo penso che questa è un'auto che cammina che corre un bel po' questo qua invece mi piace ancora di più perché è a ben quattro posti o sto di una cavolata no è a quattro posti si e si è a quattro posti ma ci sono solo due portelle quindi penso che GTA per la logica malata che tiene non fa entrare le altre due persone perché non vuole far alzare il sedile vabbè e questa qui è una Ubermacht Sentinel classic anzi questa qua facciamo una cosa la modifichiamo veloce tanto c'è un tasto rapido per modificare le auto ovvero menu custom auto upgrade mamma mia ma l'ho detto che è un'auto fighissima l'ho detto guardate che modifiche ci sono cioè l'ho detto che è un'auto da rally secondo me o da drift insomma ragazzi l'hashtag di oggi è hashtag auto auto proprio come dovete commentare sotto la mia foto di instagram quindi hashtag auto se sei arrivato fino a questo punto del video in questo modo saprò che sei arrivato fino a questo punto del video e ti lascerò un bellissimo cuoricino per ringraziarti bene detto questo continuiamo ok questo qui invece è il veicolo militare che comunque già dovremmo conoscere ed è il barrage il barrage che è davvero un veicolo molto veloce per essere un fuoristrada per essere un veicolo blindato fuoristrada si tiene davvero molto bene e ha delle armi davvero davvero molto pesanti mentre ora questo veicolo non so se l'avete intravisto è un veicolo che non ho mai visto e non sapevo nemmeno dell'esistenza qui sull'offline cercando le varie auto e posizionando le varie auto qui in fila ho trovato questo veicolo che mi pare che non è mai uscito cioè io sull'online non ho mai visto un veicolo del genere ne sono pienamente sicuro cioè ne sono sicurissimo caspita se è bello è bello perché sembra un veicolo militare ed è un veicolo cioè prorompente cattivo cioè davanti sembra proprio un veicolo cattivo mi piace davvero tanto sembra un veicolo cattivo e in realtà secondo me lo è anche una modifica veloce veloce vediamo se ci sono chissà quante modifiche oh mio dio oh mio dio che figata però ah c'è pure la palla e l'accetta bene possiamo ammazzare tutti oh guardate le portelle no raga ecco questa cosa è fighissima cioè guardate le portelle non ci sono più portelle guarda la portiera è sparita bello 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 mi piace bene questo qui invece è il vapid riata e questo qui è un veicolo che è già uscito è già uscito fin dal primo giorno ed è il veicolo fuoristrada migliore secondo me a tutti gli effetti perché ne ho già parlato in un video precedente ha delle ammortizzatori ha delle sospensioni davvero spettacolari vabbè passiamo avanti e questa qui è la benefactor strater questo qui è un veicolo diciamo SUV mi pare no non è sportivo addirittura è una sportiva mi dove cazzo sta la sportività qua beh oddio forse forse comunque un po' di sportività c'è addirittura è anche abbastanza veloce per essere un veicolo cioè è davvero un veicolo carino questo qua c'ha questi questi parafanghi che escono così sembra un SUV un fuoristrada e in realtà è una sportiva pure vediamo l'ultimo veicolo in assoluto che si chiama The Clash Yosemite ok forse questo veicolo è già uscito però io non l'ho mai visto sulla faccia della terra cioè non l'ho mai ma mai visto questo veicolo e poi tra l'altro è bassissimo c'è guardate quanto è alto ora il veicolo no vabbè no vabbè che cacchio è perfetto ci siamo piazzati modifichiamolo un attimino ma che cacchio è successo no vabbè raga è il veicolo più figo in assoluto secondo me con questo allettone che non c'entra un cazzo col veicolo e questa è una cosa figa c'è un allettone che non c'entra proprio niente col veicolo di sé per sé vediamo come si abbassa ole ma che soddisfazione raga che soddisfazione bene 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 ecco qua tutti i veicoli che vi ho mostrato fino ad ora il veicolo che mi piace di più a parer mio sono queste due fatemi sapere invece quale veicolo vi piace di più a voi fatemi sapere se magari mi sono dimenticato qualche veicolo ok però senza magari ammazzarmi o mangiarmi qui sotto nei commenti ah mi stavo dimenticando una cosa stavo per fare l'outro e mi stavo dimenticando una cosa ora vi faccio vedere il sottomarino volete vedere il sottomarino ragazzi 3 2 1 ora eccolo qua quanto è grande raga quanto cacchio è grande questo sottomarino prendiamo un'auto giusto per circunnavigarlo come cacchio si dice circunnavigarlo si dice ok ok perché se volete vi posso fare un video a parte fatemelo sapere qui sotto nei commenti se volete vedere un video a parte del sottomarino comunque ecco qua il sottomarino ve lo faccio vedere un po' velocemente ve lo sto facendo vedere solo per il fatto che sull'online si vede così di sfuggita velocemente sott'acqua e quindi non si ha la possibilità di vederlo molto bene quello penso siano degli oblo quei cerchi quei cose di vetro dove appunto si potrà vedere va bene direi che comunque il video si può concludere qui spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like a questo video ripeto commentate qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate quale veicolo vi piace di più seguitemi su instagram e mi raccomando commentate sotto l'ultima foto di instagram con auto in questo modo io vi saluterò nel prossimo video e commentate con l'hashtag che vi ho lasciato pochissimo tempo fa bene ragazzi detto questo noi ci possiamo benissimo vedere al prossimo video e ciao ciao